ok devo trovare un modo cosa sto facendo? non lo so nemmeno io aia! ma ti fa sempre male notate quanti cadaveri ci sono qui cosa sta succedendo? mi sono so sorry bitch oh merda cos'è quella cosa enorme no 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 ah no ce le ho le armi si l'ora è di nuovo un po' un po' danneggiata però almeno abbiamo ancora la piccozza oh no la bestia è entrata io non si immaginerà come dovrei uccidere una cosa del genere mi sa mi sa un campione di di puzza di pinolo 1 potremmo ucciderlo solo così un bazooka oppure usare pinolo 1 gli lanciamo pinolo 1 addosso iiii che schifo la testa che rotola che schifo madonna non fare questi urli di merda che poi mi cago anch'io caperoni caperoni i giapponesi sono sicuramente gli elmeti mi sembra quelli dei giapponesi e tu che hai da bello da bello oh si baby fucile da trince si fammi godere mi stanno cercando e mi troveranno più incazzata che mai con le mie cose e un fucile da caccia hanno praticamente scritto aspetta completerò la frase dopo il filmato la regina del sole e la guardia donante possibile che quello di prima non non toccare le tombe questa è Yamatai e questa è lei è veramente brutta o perlomeno lo era prendigli la corona incredibile sembra un rituale del fuoco una specie di sacrificio orribile perché le donne venivano messe a robo perché non stavano in cucina un viaggio un pellegrinaggio chi sia questo monastero versa dell'acqua perché rieccoti regina aspetta no non sta versando acqua sta cedendo il potere è un rito di successione una cerimonia che incorona la nuova regina laggiù non non ciao stronzo non altro avanti ce n'è per tutti pirulone ti 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 tutte le armi trocchi perchè non lo vedevo quindi pensavo oh non lo dite mica non sciogliere m cines i'm african cines non ho promigli mi piace ugualmente non mi posso arrampicare cazzo usciamo di qui la letta e' un altro stagio andato a fuonculo lasciamo là i guardiani io me ne vado da qui cazzo cazzo sono qui no dai lasciamo così ops quindi per distruggere questa barricata col filo spinato serve il fucile da caccia chiamiamolo fucile si ok se non era più completa shit da che c'è la file la letta ma da dove arriva tutto questo vento me lo sto chiedendo oddio vai la letta dai se ne era shit muoviti ti aprovi chi sono quei guardiani cosa vogliono sto arrivando no 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 wow 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 cazzo complimenti per la mia погuione tecnicamente mi ha anche preso buono che massa di idioti andiamo di qui ti è piaciuto? lo scherzetto? cattivone si l'aveva diventata una gran figona diventa bella cosine qualcosa mi dice che dobbiamo aprire queste finestre no 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 mola 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 idea idea fuck yeah qui creperemo ragazzi ve lo dico chiudiamo e apriamo questo via 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 ok spacchiamo anche qua perchè cazzo succede vieni ti faccio conoscere un mio amico cosa sembra più corazzato scendi no no quali dei coglioni subito 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 per cosa se non riesco a raggiungerla la campana la campana dovrebbe bastare per non sale la campana dovrebbe bastare ma ma per cosa utilizziamo il senso di ragno no oh ho capito capito forse no dai nerd un senso di ragno ma che cazzo faccio con quella campana mmm non so cosa faccio gli sparo non c'è nulla oh forse ho capito mia zia ho capito no forse l'ho fatto giusto si questa povera ragazza si fa sempre male no no oh forse ho capito forse ho capito povera ragazza povera ragazza povera ragazza povera ragazza per te per te Go! Forse è meglio correre di più, Lara! Ehi, cazzo! Siamo cosa arrivati, puttana merda! Sì! Via! Che culo ce l'abbiamo fatto! Puliti e rinfrescati! Adesso non abbiamo più odore di letame, però... Non è il momento di riposare, ci sono stupratori ovunque! Pronto? Pronto! Sam! Sono Lara! Oh, Lara! Che bello sentire la tua voce! Minchia! Possiamo girare! È tua, Sam! Gli altri sono con te! No! Ho rubato questa radio a una guardia! Una guardia? Mi hanno rapita! Cosa? Dove ti trovi? Non lo so! Sembra un vecchio palazzo giapponese qui! Parlano di una... Prova del fuoco! Lara! Ho una paura matta! Aspetta! Se qualcuno ti vuole ascoltarla! Sam! Sam! Sì, ma ti dice che sta arrivando qualcuno e tu continui a chiamarla! Così la scoprono e l'ammazzano! Mi hai già due sulla coscienza! Anzi, facciamo quattro o cinque! Però! Mi senti? Sto andando al palazzo! Gli altri sono tenuti lì! Tira il jungle! Così entrano insieme! Ok, ragazzi! Sperate!